Buon pomeriggio a tutti e bentornati nel mio angolo make up. Allora amiche miei finalmente sono riuscita a girare il video make up della nuova collezione della Revolution in collaborazione con Coca Cola e anche la Revolution quest'estate ci regala le sue palette con tutte le cialde che vanno nell'arancia o nel viola, quest'estate si portano tantissimo. Io inizierei, dalla mia faccia si nota che la cialda mi è piaciuta e molto pigmentata, inizierei appunto con tutti questi arancioni dal più scuro, da quello medio, da quello più chiaro e poi li vado a sfumare insieme e poi naturalmente giocherò anche io con il viola oserò anch'io utilizzare questa cialda viola e vediamo come andrà a finire questo make up. Io per il momento vi lascio il video e ci vediamo dopo. Ciao a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti